Un saluto alla parte di Vero Giparco e a te da una sfida Adalanta, Chievo, Verona Io e Chievo ovviamente La partita è importante La partita è emozionante E molto amante Il primo calcio di inizio Speriamo che qui si richievo Questo già lo vedo molto in forma Scelto il modulo offensivo Eccolo questo Lo vedo pure Sì, questo è buonissimo Ma no Siamo in inglese Siamo in inglese Siamo in inglese Ho più a pallone in mezzo In pesa che fatica a spazzare la palla No 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 Eeeh Ma che fatti? Senta qui la minaccia Mette noi No, paralo E spinge il primo tiro Oh Guarda che sta palla Ma dove va? Ma è solo No Ma io ero proprio culo No, come? Ah, c'è la vita proprio 3 più 4 rara Una è rovesciata e mezza a due Guarda Un coltiero pure Mezza a tre Vediamo i ragazzi Guarda Guarda quelli I rovesciati Solito culo Guarda là I rovesciati Ma la palla C'è di lavoro No E' un bug Pucciarelli 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 Mette è pagante Ma che ne sai Ma capite la Lulee C'è Ma io ero C'è 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 No no come è questa nooo ho quale spirito che personalità hai bucciarelli hai visto il cacciatore la galante è troppo larga sei scemo amico secondo me ti vengo più facile hai visto il cacciatore per favore un po' di storia gamberini mi sembra se vuoto st portare cerchere attenzione attenzione possibili e c'è la conclusione la sicurezza della vittoria ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico devono mantenere la macchina con il centro ma come? ma chi è questo maradona? guarda allà non so se potesse metterla proprio lì no non ti accura non so se potesse metterla è Friolenaldo è vero guarda allà guarda non so se ci è giusto non so se non lo fa non so se non lo fa non so se non lo fa ma ti accanto è che nessuno è vero ma va cambiando ma lo che è la scuola ma come lo vado a fare 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 ma se vuoto è vuoto là in mezzo vado a fare che stai giocando che come si cambia sta roba sopra vado a fare 4 ma che stai combinando no continui mai no ok vado a fare ma è vuoto ma che stanno trovando la squadra però loro giocano così quando cambia è peggio ma che ci fatti mi vuole che non stai finisce un po' più facile faccia vado a fare e mmm oh è fatta informatico dove vado a dare Oh, che c'è fatto? Non so come sta Oh, no, no, no Ci stava il pavolo? Ma che stava? No, no, no No, no No, 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 no Come hai una cucciare, no, no, no Cucciare, no Ehm Ehm Ehm, quello che vuoi portare libera La mia coppia d'ossola, è un tiro Ha spazio per andare I compagni si vanno a vedere Trovo a sorprenderlo Il potere che blocca il tiro Tanti Un poco un bambisoso Il po' è un bambisoso no vai inglese è come questo qua birza capriciore uuuu capricioooooo eh fallo oh vieni fallo 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 2 4 gi non sa il gi 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 2 aiuto ma lo stai da con la colla i banchini i banchini si dà il tuo level cambio il tuo punto terrore no meno male meno male meno male terrore ma non ho visto mai la pigliatrice il suo il tuo nome oh grazie ma che ha fatto? no puoi apertura lale puoi avvicinarsi alla porta eh, che c'ho la stavola e te cico, non te magna no ma non la trovo ma è sempre la cerco solo io non la vedo sono 40 minuti che sto cercando la vedo nella tua donina puccia no no ma che culi il mahert il prezzo si tratta chiama l'albitro andiamo a rincazzare l'albitro non lo avrei il culo a 30 mahert si fa davvero inarrestato si fa una fotografica si fa una fotografica si fa una fotografica sui tv tu tripletta di pucciarelli no acquisto ma poi studio passano che ha passato un gioco e io ho avuto sono la vostra inizia sorrenti che fai da l'andare? te castrerai veramente castro caro nooo è giallo è il buono lì il pensiero c'era eh eccolo bucciare ma chi lo bucciare? e lo rimballa a piedi semplice ma dai con un secondo con un anno secondo allora ma non vuoi la chilla? e' da talando è da talando e' da talando e' da talando vai vincere mannè pubblico di casa che trova trascinare la propria squadra che è sotto il loro ma la papa 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 ma non si è un'esplice ma la papa sono cosa che cosa w.tf ma non su un po' un po' ma non c'è ma non c'è spazio per a te per la bucciarelli poker di bucciarelli è finita 4 e 2 eccolo è finito divino che si trova un po' di Pier tu non sbagli mai c'è un po' di 4 e' un po' di 4 e' un po' di 4 pucciarelli ha preso la corsa pucciare oh ci ha rizzo nel secco oh ah che corsa oh hanno avuto si 4 1 va a culo 1 va a culo vado a culo puciarelli alla prossima no ciao Ah, un ullo anche.